Ciao, sono dottoressa Chiara Pollonio, oggi ti parlo del finocchio. Il finocchio è un tipo di verdura che praticamente ci consigliano tutti di consumare perché è ricca di fibre, essendo ricca di fibre migliora il transito intestinale e va benissimo anche nelle diete, quindi nei consigli alimentari. Ha un effetto anti-infiammatorio, quindi riesce ad alleviare problemi di infiammazioni e dolori a livello gastrointestinale. Il finocchio migliora lo svuotamento gastrico, va bene anche per i più piccini infatti, togliendo le colichette e i fastidi che possono sorgere nella prima infanzia, ma anche ad ogni età. Inoltre lo consigliano molti dietologi, durante le diete, perché appunto andando a migliorare lo svuotamento gastrico, facendo lavorare anche meglio il fegato, aumentano il metabolismo, oltre che la digestione. Inoltre i finocchi, come anche i loro semi, sono ricchissimi di acido folico e di vitamine D gruppo B, di sali minerali e di antiossidanti, per cui possono essere adoperati da tutti e per ogni evenienza. Grazie!